ok adesso sì che ci siamo dunque benvenute benvenuti a tutte e a tutti quelli che si sono appena connessi a zoom allora siamo pronti per iniziare il webinar di oggi carichissimo di novità e che siamo molto felici di presentarvi in diretta e lo faremo grazie all'ottimo simone baci che vedete già pronto in posizione dunque qualche informazione velocissima prima di cominciare stiamo registrando anche il webinar di oggi quindi come sapete tra qualche giorno sarà disponibile sia sulla nostra playlist webinar di youtube sia sul nostro sito internet di casa delle lingue e avvertimento importante altrimenti poi ci scannate questa volta non riceverete il vostro certificato di iscrizione subito dopo il webinar ma ve lo manderemo la settimana prossima quindi in un'unica mail insomma lunedì al più tardi avrete tutto quanto cioè avrete il vostro certificato di iscrizione il link alla registrazione del webinar di oggi se volete rivederlo rivederne delle parti eccetera il link anche alla presentazione di diapositive che sta per condividere con voi simone e il link al per favore questionario di soddisfazione che è online che vi chiediamo come sempre di a cui vi chiediamo di rispondere dopo le nostre formazioni online e basta altre cose sì come sempre ecco ormai insomma avete una certa dimestichezza tutti penso con zoom avete a vostra disposizione nel menu zoom lo strumento q and a qr a seconda della vostra lingua di interfaccia zoom e tramite quella finestrella potete mandarci le vostre domande inerenti alla presentazione di simone e noi quindi ci riserveremo gli ultimi dieci minuti circa del di questo incontro online per porgergli le vostre domande bene detto questo siamo pronti per cominciare io resto nell'ombra e invece sposto il focus della vostra attenzione su simone e sul suo webinar di oggi a più tardi buongiorno e grazie mille della vostra partecipazione sono un po emozionato perché non ho l'abitudine di parlare a persone che mi seguono contemporaneamente da diversi paesi del mondo siete collegati dall'europa e dall'america latina principalmente quindi insomma grazie di essere tutti connessi nonostante il fuso orario e di essere qui e con noi per parlare di dai la nuova creatura di casa delle lingue io sono simone bacci vivo a strasburgo dove insegno all'università e all'istituto italiano di cultura e oggi appunto vi presenterò il il nuovo manuale di casa delle lingue intitolato dai il primo volume allora adesso vediamo se riesco a fare andare avanti le slide allora un attimo chiedo solo un attimo di pazienza per prendere il controllo dunque non riesco ad andare indietro vittoria stanno forse ho premuto troppo in fretta stiamo andando un po troppo velocemente ok adesso siamo tornati chiedo scusa per le diapositive che vengono una dopo l'altra allora mi fermo qui eh quindi dicevo che eh oggi vi presenterò dai uno è una novità editoriale di casa delle lingue eh che eh in un volume unico che comprende libro dello studente quaderno degli esercizi e legati culturali ha l'obiettivo di eh completare un sillabo a uno attraverso l'apprendimento orientato all'azione eh il manuale uscirà a fine maggio e eh poi nella la prossima primavera eh usciranno quindi nella primavera duemilaventiquattro anche i volumi A2 e B1 Dai 2 e Dai 3 per poi ehm avere la pubblicazione di Dai 4 nella primavera del eh duemilaventicinque. Allora eh in in questo webinar in questa oretta che passeremo insieme vi eh presenterò eh la eh struttura eh di Dai eh poi cercherò di concentrarmi sull'unità saggio che è l'unità numero 5 eh presentando i principali punti di forza eh di questo manuale e per concludere molto rapidamente cercherò di eh presentarvi la mia esperienza di coautore di questo manuale ehm dopo la aver testato l'unità saggio anche a lezione cercherò di mostrarvi un po' eh qual è stato un po' il mio apporto e anche la mia eh esperienza in questo in questo progetto. Eh più tardi poi ritornerò anche sul significato che abbiamo dato al titolo del del webinar. Eh se avete domande come diceva Vittoria potete annotarle e vi ascolterò e cercherò di rispondere eh molto volentieri alla fine della presentazione. Eh dunque prima di eh cominciare per capire bene a chi mi sto rivolgendo vorrei eh proporvi un piccolo sondaggio. Quindi eh la è un sondaggio a risposta multipla eh a cui potete rispondere eh cliccando direttamente sullo schermo siete insegnanti di italiano lingua straniera o lingua seconda quindi potete rispondere al sondaggio avete ancora qualche istante le risposte mi serviranno per capire meglio ehm chi ho dietro lo schermo quindi abbiamo un settantatre per cento di eh partecipanti al webinar che insegnano italiano lingua straniera e un ventotto per cento eh che eh insegna eh l'italiano lingua seconda. Adesso c'è una seconda parte del del sondaggio sempre a risposta multipla vi chiederei a quale tipo di pubblico voi vi rivolgete nella vostra attività didattica quotidiana. Potete dare più di una risposta se è prevalentemente il pubblico, il privato, se sono più giovani o meno giovani, i studenti universitari. Ehm anche questo mi servirà poi per ehm il seguito della presentazione. Allora ancora qualche istante. dunque abbiamo un trentaquattro per cento che lavora nel settore pubblico, un cinquantuno per cento che lavora nel settore privato, un dieci per cento che insegna a bambini, un ventinove per cento che insegna ad adolescenti, una stragrande maggioranza, il settantasette per cento di voi ehm dei rispondenti ehm lavora con adulti e un trentaquattro per cento ehm di ehm persone che insegnano a ehm l'università. Quindi mi serve per farmi una un'idea un po' del del pubblico e anche degli utenti potenziali di questo di questo manuale. ehm allora cominciamo a guardare rapidamente la struttura eh di eh di DAI. Quindi la ehm il manuale è di suddiviso eh in questa maniera. Si apre con una unità zero, unità zero in cui eh vengono ehm lavorate praticamente le attività, le le competenze di base. si mh si studia la fonetica, l'alfabeto, i numeri da zero a venti e si dà allo studente il metalinguaggio comunicativo per poter interagire con l'insegnante. Dopo questa unità zero seguono otto unità didattiche, ciascuna composta di quattordici pagine e suddivisa eh in nove sezioni. eh ne vedremo una per una. Quindi la prima sezione con cui si apre il manuale è la sezione cominciamo. Io adesso vi farò vedere ehm del degli estratti per mostrarvi le varie sezioni dell'unità numero cinque che è l'unità saggio. Prima però vi vorrei spiegare un po' la progressione tematica del manuale. quindi ho detto che ci sono otto unità didattiche che ehm presentano dei eh dei temi diversi. La prima unità è dedicata alle presentazioni, la seconda unità alle professioni, la terza alla città e al quartiere in cui si vive, la quarta unità è la descrizione della persona e della famiglia, segue poi quella che è appunto la nostra unità pilota, la l'unità numero cinque dedicata alla routine quotidiana, quindi le attività e le abitudini quotidiane. La numero sei è eh ha come tema il cibo e gli alimenti, l'alimentazione. La numero sette ehm le esperienze vissute, quindi ehm con l'espressione al passato e l'ultima, l'ottava unità è eh dedicata alla moda e all'abbigliamento. Eh dunque cominciamo da cominciamo. Cominciamo è la prima sezione eh del del manuale. Dai uno si apre in questo modo con una pagina doppia ehm che come potete dedurre dal titolo ha come obiettivo quello di introdurre il tema dell'unità. Nel caso dell'unità cinque è la routine, le abitudini quotidiane e eh essendo un manuale orientato all'azione eh so ed è in questo momento, quindi nella doppia pagina di apertura, che si annunciano i compiti eh da svolgere alla fine dell'unità e gli obiettivi comunicativi della dell'unità. Quindi eh nel caso specifico di questa unità, l'unità numero cinque, il compito individuale che lo studente sarà invitato a svolgere è quella di intervistare un compagno sulle sue abitudini quotidiane. Quindi durante tutta l'unità costruirà le competenze che lo porteranno a poter svolgere questo compito. Eh è importante nella doppia pagina che ci siano delle attività rompighiaccio, quindi delle attività di apertura e di prima osservazione, di primo contatto con il materiale lessicale che poi servirà per piano piano arrivare alla eh al compito finale. Quindi questa doppia pagina eh presenta, dicevo, gli obiettivi comunicativi dell'unità, da eh una prima infarinatura attraverso delle attività eh di primo contatto per guidare lo studente a eh all'incontro con il lessico su cui si strutturerà tutta l'unità e eh come dicevo proprio secondo l'approccio orientato all'azione si eh annunciano già quali saranno i progetti finali con un compito eh collettivo che si svolge a livello della classe e con un compito individuale. La seconda parte invece la seconda sezione del eh del manuale si intitola Comprendiamo. Allora Comprendiamo è una doppia pagina anche in questo caso che attraverso eh delle attività guidate permette agli studenti di iniziare ad acquisire le prime risorse linguistiche per svolgere i compiti. Quindi troverete in questa doppia pagina in alto eh dei eh del dei piccoli pittogrammi che vi mostreranno relativamente alle attività svolte eh a inizio unità quali sono le risorse web che sono reperibili sul sito di Casa delle Lingue e sul canale YouTube. Poi ehm la l'unità permetterà sempre come potete vedere dai pittogrammi in basso a sinistra di ricordare allo studente quali tipo di competenze linguistiche sta sollecitando se espressione, interazione, comprensione e poi il nelle attività proprio concrete che strutturano l'unità avete dei in questo caso un test, una comprensione scritta, insomma dei documenti eh autentici e che sono culturalmente significativi che presentano la lingua in contesto. Ehm questi eh questi testi hanno tutti poi spesso un interesse culturale e interculturale. Ci ritorneremo sopra dopo. Ehm ci tengo già sin da ora a sottolineare qual è stata un po' la mia esperienza. Per esempio io con la mia classe di studenti di primo anno eh della laurea trennale in lingue eh ho eh testato ho testato il test e questo test dell'italiano doc che gioca un po' con gli stereotipi, la rappresentazione stereotipica degli italiani e eh in questo caso mh l'attività è completamente personalizzabile anche da parte dell'insegnante perché l'attività proposta è quella di completare il test. Io per esempio a lezione dopo averlo fatto completare eh ho chiesto anche di lavorare in coppia ehm e di eh utilizzarlo come un'attività orale di interazione eh anche in modo che ci fosse un esercizio di memorizzazione sulle opzioni proposte da uno dei due eh interlocutori. Questo è per dire che eh diciamo il le diverse attività poi possono naturalmente essere prese e eh personalizzate da dai vari insegnanti a seconda della loro sensibilità. La sezione che segue la numero tre si intitola osserviamo e riflettiamo che diversamente dalle sezioni precedenti è costituita da tre pagine. Allora in osserviamo e riflettiamo ehm ci si concentra su una regola precisa in questo caso è eh esprimere e chiedere l'ora. Eh la regola eh viene innanzitutto fatta osservare poi ci sono delle attività di modellizzazione che seguono di applicazione e poi si tende a presentare un'attività ludica di riempiego che permetta poi di assimilare la la nuova regola attraverso il gioco. In questa sezione eh osserviamo e riflettiamo quindi abbiamo lo potete vedere dalle animazioni nel piccolo riquadro giallo delle attività di osservazione e analisi della lingua che eh come potete vedere poi rimandano in basso a libro degli esercizi quindi nel libro dello studente si osserva e poi lo studente può avere il rimando al libro degli esercizi che permette poi di andare ad approfondire la questione. Nella sezione e potete vedere qui è interessante il pittogramma eh pillole di fonetica che saranno inserite eh per approfondire l'aspetto fonetico quindi attraverso i canali ehm il sito di casa delle lingue saranno accessibili e poi l'attività ludica di cui vi parlavo e su cui ritorneremo più tardi. Quindi questa è il sono le prime due pagine di osserviamo e eh riflettiamo eh in potete vedere in basso a destra prima del box le nostre parole eh che le attività sono tutte molto guidate e qui in particolare ci sono anche delle attività di interazione guidata quindi dopo aver osservato le regole dopo aver osservato ehm rilavorato il lessico si propongono delle attività di interazione guidata che appunto arrivano dopo le attività di osservazione per fare lavorare attivamente gli studenti e in azzurro più in basso e viene ehm viene fornito il modello che servirà poi a svolgere l'attività di interazione che dà un po' il là e che permette di cominciare. Eh la terza pagina di osserviamo e riflettiamo è eh questa che io ho vi faccio l'esempio di questa attività di osservazione la mia agenda della settimana che io ho usato anche in classe eh anche in questo caso si chiede osserva l'agenda di Luca secondo te che persona è indica quale dei seguenti aggettivi sono più adatti eh in questo caso poi eh dopo l'attività di eh osservazione viene un'attività di produzione e nella mia esperienza personale ancora ritorno sul fatto che le attività poi sono tutte personalizzabili l'ho a mia volta eh poi adattata come un'attività di interazione ho chiesto ai miei studenti di fare un proprio orario e di confrontarlo eh facendosi delle domande sulla loro routine quindi una sorta di già di esercizio preparatorio al compito ehm finale. Allora in ehm lo abbiamo già un po' visto quindi ci sono all'interno dei mh dei riquadri quindi quelle per esempio qui in questa slide l'attività B eh delle attività che permettono di ehm avere dei modelli quindi il testo in blu indica il modello di lingua per le produzioni orali e scritte e per gli esempi e gli esempi per lo svolgimento delle attività. Ehm avete il box le nostre parole che è già uscito prima questo box vedrete sarà una costante di tutte le unità di eh DAI è un un riquadro che servirà a sistematizzare il lessico dove lo studente può fare un primo bilancio di quello che ha imparato nel corso dell'unità e che gli servirà poi a svolgere il compito. Quindi dopo aver visto il lessico, le espressioni, le collocazioni per parlare della propria routine in questo box ehm intitolato le nostre parole lo studente è invitato a parlare di sé seguendo il modello in azzurro. Quindi la mattina mi sveglio, il pomeriggio faccio questo, la sera faccio quest'altro, la notte dormo. Quindi è già invitato a ehm a lavorare su queste competenze che ha già incontrato. La quarta sezione è eh una sezione di approfondimento. Quindi ehm approfondiamo il lessico. Come potete vedere qui si riprende il lessico dell'unità, lo si approfondisce. Nel caso dell'unità 5 stiamo parlando della routine, quindi si eh approfondiscono gli item sulle abitudini quotidiane, sugli sport e si invita anche a sistematizzare le diverse collocazioni che nel corso dell'unità sono state incontrate. Quindi si riprendono e si sostiene il processo di memorizzazione. Dopo la ehm tutto questo percorso arriva finalmente anche la ehm la parte poi di grammatica. Ma prima un di in questa pagina di approfondimento lessicale anche qui avete delle risorse web. Quindi per ciascuna unità si proporrà poi un video sul lessico e una o più schede proiettabili. Sono tutte risorse web che si aggiungono a quello che è già contenuto nel libro dello studente e eh come dicevo prima quindi si sistematizzano le diverse collocazioni dell'unità. Ehm vedete che in ogni parte questo c'è questo piccolo questa piccola vignetta che fa da rimando sempre continuo al libro degli esercizi. Quindi in qualsiasi momento della sua progressione lo studente potrà avere un rimando al libro degli esercizi che sono è composto di sei pagine per unità. Quindi c'è comunque un buon lavoro poi di approfondimento e di esercitazione che viene fatto a sostegno della della memorizzazione e andrà ogni volta che lo desidera poi a fare degli esercizi grazie ai rimandi. Dicevo che poi dopo questa sezione arriva la sezione 5 la grammatica. Allora la grammatica qui naturalmente ci si sofferma e è arrivato il momento di soffermarsi sulla spiegazione grammaticale. Nel caso della dell'unità 5 è eh per esempio l'interfisso ISC nel nei verbi del terzo gruppo. Oppure c'è anche una spiegazione su la posizione dell'avverbio. Perché arriva ora? Perché nella logica dell'apprendimento naturale lo studente è invitato ad osservare la grammatica nel contesto reale e poi alla fine dopo averla vista in funzione, in azione, si procede per, si induce lo studente a dedurre la regola e poi si porta a lui una tavola sinottica a posteriori. Quindi qui si arriva nel momento in cui ci si sofferma sulla diciamo la riflessione grammaticale e quindi vedete che c'è una costruzione progressiva delle regole. E anche in questo caso dopo la spiegazione grammaticale che viene sempre fatta in modo molto semplice ed accessibile ci sono poi delle attività di consolidamento. Ecco qua così il diciamo il processo anche a livello grammaticale si completa quindi in questa doppia pagina. Dunque adesso arriva in nella nella struttura di DAI un po' una rivoluzione copernicana nelle nei manuali di caso delle lingue che è quella del video. Allora la sezione successiva è, non so se la slide avanti sta andando avanti oppure si è bloccata, vediamo. Ecco quindi guardiamo il video e il nome della della sezione successiva. In questo caso sono inserite dentro ad ogni unità delle attività di comprensione orale a partire da un file video che sarà accessibile grazie a un codice QR. Quindi si potrà guardare direttamente dal dal telefono oppure il video sarà disponibile sul canale YouTube di Casa delle Lingue e sono tutti dei video che sono in rapporto naturalmente con l'unità, con la tematica dell'unità e che cercano un po' di sensibilizzare all'aspetto eh culturale e interculturale. Mh per esempio nell'unità 5 vediamo una blogger italiana che vive a Londra che interroga un po' i suoi follower su quello che identifica un italiano, no? Cioè i gesti, i rituali, i simboli che fanno sì che tu sia eh italiano. Quindi anche in questo caso eh il video diciamo può essere un'occasione per confrontare gli gli studenti su gli stereotipi che hanno integrato dell'Italia, confermarli eh oppure anche eh contraddirli. Eh dopo il il video arriva eh scusatemi eh il video eh dicevo è in è accessibile con codice QR o sul canale YouTube e poi naturalmente ho dimenticato di dire che mh legate al video ci sono tutta una serie di attività di comprensione, produzione, interazione. Quindi il video poi viene ehm utilizzato per la comprensione poi per lavorare da soli o in gruppo. Allora in questo in questa slide prima di passare alla alla sezione successiva che si chiama cultura e società vi do un piccolo assaggio del primo video della unità numero uno che sarà inserito nel nell'unità di presentazione e vi mostrerà un po' tutto quello che vi vi dicevo rispetto anche alla sensibilizzazione, all'attenzione portata sull'aspetto interculturale. La lingua che era la quarta o la quinta è diventata quasi la mia la mia prima lingua perché la parliamo a casa è sicuramente una parte importante. La lingua o le lingue che si parlano in Italia è un'armonia musicale, un'armonia di di migliaia, miliardi di sfumature come questi colori qua. Mi sono innamorato del suono e della sua musicalità. La lingua italiana è l'arte, la musica il canto. L'italiano mi sa che va sempre di moda. Gli albanesi imparavano l'italiano di nascosto perché potevano ascoltare un voce dal mondo che si chiamava mondo libero. La lingua italiana è tutto, per me è amore, per me è storia, per me la lingua italiana è passione. Sono cresciuto con la lingua italiana e quindi penso che è una delle fortune più grandi che ho avuto nella mia vita. L'italiano è come l'arcobaleno, è l'arcobaleno della musica, dell'arte, della scienza, della letteratura, dei media, del cinema, della storia. Per me la lingua italiana è il mio primo amore. Perché parlare italiano? Perché è la lingua della musica, la lingua dell'arte, la moda, lo sport, la storia. La lingua italiana è poesia, come si dice il poeta. Mentre lui gli insegnava a fare amore, lei gli insegnava ad amare. La lingua italiana è la lingua del paese che mi ha accolta e amata. La lingua del paese che è pieno d'arte e magia. La lingua italiana è melodica e melodica, musicale. È bella da parlare e bella da ascoltare. Parlare la lingua crea più ponti di comunicazione tra i due paesi e una più ampia conoscenza e vicinanza. Ecco, vedete che questo tipo di video, oltre a naturalmente aggiungere un tipo di attività diversa dalla semplice comprensione o espressione, stimola poi l'aspetto interculturale, può permettere una discussione in classe a livello di percezione della lingua, delle ragioni, anche i motive che portano a studiare l'italiano ed è quindi un stimolo, un input che può essere particolarmente efficace anche per introdurre il tema dell'italiano come lingua di cultura, non solo come lingua di studio e come lingua nativa per gli italiani. Dopo questa sezione dedicata al video viene una sezione di approfondimento culturale intitolata Cultura e Società, dove si approfondiscono dei contenuti culturali dell'unità attraverso dei documenti autentici. ritornerò più tardi poi sull'aggettivo autentico, che cosa intendiamo per autentico. In questa sezione, che è una pagina sola, abbiamo dei documenti scelti in base alla tematica dell'unità per ampliare e approfondire i contenuti culturali emersi nell'unità e poi ci sono sempre attività che promuovono la comprensione interculturale. In questo caso l'abitudine tipicamente italiana del caffè, l'enorme quantità di tipologie di caffè, quindi le abitudini e anche in questo caso ancora stereotipi di cui si può parlare insieme. Allora iniziamo verso la fine dell'unità. Abbiamo visto il lessico, siamo arrivati a far dedurre la regola di grammatica ai nostri studenti. Li abbiamo preparati a svolgere dei compiti e quindi in questo caso arriva più un'attenzione sul compito che si dovrà svolgere. Nell'ambito di questa unità ricordiamo che il compito individuale è fare un'intervista al proprio compagno sulla sua routine quotidiana. Quindi in questa fase, la fase prepariamoci i compiti, si prepara lo studente in modo un po' più specifico proprio per eseguire il compito finale e si diciamo rimescolano e riutilizzano un po' tutti i contenuti su cui si è lavorato in questo momento. Poi arriva la fase proprio finale dell'unità che è quella dei compiti in cui si danno dei modelli per il compito collettivo e si esplicitano le consegne per svolgere nel migliore dei modi il compito individuale, dove tutto è molto preciso e chiaro in modo che lo studente sappia quello che è quello che gli è chiesto di fare a livello proprio di compiti. Allora, adesso passo alla seconda parte della mia presentazione, vi ho un po' spiegato come funziona la struttura di DAI nelle sue otto unità. Adesso vorrei concentrarmi un po' di più sul i punti di forza di questo manuale e abbiamo deciso di scegliere come titolo del webinar un manuale autentico, ludico e inclusivo. Quindi questi tre aggettivi sono, perché li abbiamo scelti? Perché sono abbastanza rappresentativi del taglio che è stato voluto, che abbiamo, che è stato dato al progetto sin dalla sua concezione, sin dall'inizio. Allora, che cosa intendiamo per autentico? Allora, ci sarebbe tutta una riflessione che meriterebbe di essere, che dovremmo fare sul termine autentico nell'epoca di di pelle, dell'intelligenza artificiale e di chat GPT naturalmente. Noi per autentico non intendiamo, intendiamo in particolare non inventato a fini didattici, ma un testo che viene preso da un contesto comunicativo reale. Quindi testi autentici, lo sforzo di noi coautori, di tutti gli autori che hanno lavorato a questo manuale, è stato cercare dei testi che permettessero di osservare determinati aspetti della lingua a un livello a uno e che venissero tutti da contesti comunicativi reali. Immagino che sappiate tutti quanto me, visto che siamo tutti tra colleghi, quanto è difficile trovare testi autentici appropriati per un livello a uno e adatti a un pubblico di principianti senza che questi documenti sovraccarichino gli studenti dal punto di vista cognitivo. Immagino che avrete anche voi la stessa la stessa esperienza. Però il testo autentico è comunque, scusatemi, sono andato troppo avanti, è necessario per, scusate ho accelerato troppo con le slide, non so cosa sia successo, adesso torno indietro, dicevo che la presenza di testi autentici è necessaria per i nostri studenti per dar loro degli input realistici che poi possono ritrovare una volta immersi nel bagno linguistico sul posto, quindi in Italia e anche perché possano riusare le risorse che studiano a scuola nella vita quotidiana. Quindi noi ci siamo sforzati di trovare il giusto equilibrio tra input originali e poi il necessario adattamento a un livello a uno e in questa diapositiva dimostro per esempio da alcuni testi autentici che abbiamo scelto. Uno che parla un po' dell'aspetto culturale e quindi il commissario Montalbano estratto da un sito autentico troverete sempre nel corso del manuale anche l'indirizzo da cui i testi sono stati presi e vedete anche che all'interno del testo autentico invitiamo poi a isolare e a osservare determinate cose, quindi c'è una sottolineatura in verde che permette allo studente, essendo il testo autentico un po' più denso di un testo elaborato ad hoc, quindi di andare a isolare e a osservare con più facilità le cose su cui vogliamo che lui si soffermi. Abbiamo le abitudini del caffè di cui abbiamo parlato prima oppure abbiamo estratto da dei blog, dei commenti sulla routine quotidiana o dal per esempio a destra avete un estratto del testo preso dal sito della Valle d'Aosta che presenta le particolarità linguistico-culturali di questa regione. Quindi diciamo che questi testi sono tutti autentici e permettono allo stesso tempo poi di lavorare sull'aspetto culturale e interculturale. Per esempio il post del blog che vedete al centro su gli orari dei pasti permette poi di far confrontare i nostri studenti che vivono magari fuori dall'Italia sulle loro abitudini eh alimentari rispetto a quelle eh che si eh che si praticano in Italia. Quindi ancora una volta per confrontare gli stereotipi, confermarli o smentirli. Il secondo eh aggettivo è attività ludica, quindi era un manuale autentico, ludico. Allora prima di andare a parlare di questa di questo aspetto su cui ci siamo un po' dedicati nella concezione di DAI ehm quindi lo avrete capito è un manuale che contiene qualche attività di gioco al suo interno. Prima di andare a spiegarvi che tipo di attività ludiche contiene vorrei capire ancora una volta qual è il vostro rapporto con l'attività ludica. Quindi vi sottopongo se siete d'accordo un altro piccolo sondaggio eh per capire se eh usate o no il gioco nella vostra attività didattica quotidiana. Allora la domanda è quanto spazio dai tu alle attività ludiche nelle tue lezioni? Avete una singola scelta quindi da mai raramente solo con determinati argomenti spesso oppure sempre quindi cerco sempre di inserire elementi ludici. Avete qualche istante ancora per rispondere? E vediamo se siete inclini, se siete dei fan della didattica ludica oppure no. quindi vi invito a rispondere al al sondaggio se non l'avete ancora fatto potete cliccare direttamente nella risposta sullo schermo Allora abbiamo un cinque per cento che rispondono mai e un cinque per cento che rispondono raramente quindi un sedici per cento risponde utilizzo le attività ludiche solo con determinanti argomenti che si prestano poi a giocare e un trentatré per cento spesso quando è possibile mentre sembra che trentasette persone su ottantotto usino eh sempre ehm cioè immagino quando è possibile di inserire elementi ludici quindi cercano sempre di inserire un elemento ludico nelle loro attività. Allora eh è molto interessante che siate sensibili a a questo aspetto ludico allora torno indietro perché anche questa volta eh le slide sono andate avanti troppo rapidamente vediamo. Allora per noi la la l'attività ludica è stata un po' una un abbiamo cercato di di metterne una in ogni unità. Allora torno alla diapositiva scusatemi ho fatto spoiler sapete già tutto di quello che succederà dopo la mia presentazione mi dispiace allora eravamo qui ok ehm vi do un esempio di un'attività ludica che eh viene inserita nella eh unità 4. L'unità 4 vi ricordo è quella dedicata alla descrizione della persona. A metà percorso dopo che lo studente ha eh osservato sistematizzato ehm riutilizzato il lessico per descrivere i tratti fisici e psicologici di una persona viene invitato a fare un tipo di attività ludica di questo tipo. Ve la leggo. L'insegnante mostra le foto di tre persone a gruppi scrivete degli aggettivi per descriverle. Avete 60 secondi a disposizione. Il gruppo che associa più aggettivi adeguati a ciascuna foto vince. Quindi in pratica siamo in un punto in cui dopo le dovute attività di reimpiego e di modellizzazione che sono state fatte si dà spazio a un momento di gioco in cui lo studente è diviso in gli studenti sono divisi in squadre e sono messi in una situazione di competizione costruttiva. Quindi ehm questo presenta dei vantaggi abbastanza interessanti aumentare la loro motivazione e favorire l'apprendimento attivo e cooperativo. Quindi gli studenti sono messi insieme per con una sorta di competizione positiva e mostrano un altro vantaggio che si mettono in una situazione linguistica autentica. Quindi si offre loro un'esperienza linguistica autentica. Naturalmente poi il vantaggio è che aumenta la loro fiducia nell'usare la lingua in una situazione reale e eh questo da rende lo speriamo tutti il corso eh più efficace. Poi naturalmente anche questo tipo di attività si può personalizzare eh o arricchire per esempio un insegnante che conosce molto bene la sua classe può scegliere tre fotografie di persone che la classe conosce oppure creare dei premi. Insomma chi più ne ha più ne metta. Possiamo sempre personalizzare poi le attività. Eh il terzo ehm aggettivo del titolo di questo webinar è inclusività quindi un manuale inclusivo non tanto dal punto di vista eh dell'accessibilità del manuale. Per inclusivo noi intendiamo mh un manuale che cerchi di rispettare la diversità culturale di genere, di provenienza, di orientamento sessuale, di background, di stili di vita, dei potenziali studenti che poi utilizzeranno il manuale. La voglia naturalmente è quella di creare un ambiente di un clima di apprendimento accogliente contrario ai pregiudizi. Come abbiamo cercato di farlo naturalmente anche qui nella selezione dei testi. Vi faccio un esempio di un testo che io ho selezionato per l'unità 4 dove eh c'è un'attività eh dedicata a mh la ricerca di di una guida locale per visitare una città italiana. In questo caso per esempio mi sono eh sono andato su un sito dove si cercano veramente delle delle guide locali. Ho cercato diversi profili, li ho un po' messi insieme cercando di isolare dei profili rappresentativi di tutti gli italiani. Quindi una famiglia tradizionale, la famiglia monoparentale, la famiglia omosessuale e eh in modo che tutti possano sentirsi poi rappresentati in questo tipo di attività, in un clima accogliente. Anche nell'impianto grafico del manuale c'è un attenzione nel selezionare delle fotografie che scegliano un po' ehm che diano una una che siano lo specchio della società multietnica in cui viviamo. Poi ci sarebbe stato anche un altro punto forte molto importante eh di Dai solo che non potevamo metterlo nel titolo perché altrimenti sarebbe diventato un titolo lunghissimo, sarebbe sembrato più un film di Lina Vermuller invece che un webinar di Casa delle Lingue. Questo punto forte è il lavoro graduale sul lessico. Il lessico in Dai si scopre gradualmente, viene riattivato continuamente. Per esempio nell'unità pilota, nella routine quotidiana, abbiamo i verbi del che esprimono le abitudini quotidiane, come fare colazione. Vi faccio un esempio. Fare colazione viene fuori nella nell'attività rompighiaccio, nella prima pagina settantacinque, poi si ritrova nel test che abbiamo visto prima, il test su sei un italiano doc nella pagina dopo e quindi si osserva una nuova volta. Poi quando si fa l'attività di interazione guidata nel modello che è fornito allo studente, si ripresenta il verbo e alla fine, nel corso di tutta l'unità, il lavoro sul lessico si fa in maniera graduale fino alla sistematizzazione di cui abbiamo parlato prima nel box le nostre parole che permette quindi di riutilizzare continuamente queste nuove parole che è di sostenere la memorizzazione. Poi un ultimo vantaggio di DAI è la sua compattezza. Abbiamo parlato, vi ho presentato le strutture del libro dello studente, però in fondo al libro, in fondo al manuale DAI ci sono anche poi il libro degli esercizi e poi tutte le risorse scaricabili che vanno di pari passo con le attività del manuale. Le pagine di esercizi sono sei per ogni unità, quindi qui potete vedere delle attività grammaticali, lessicali e di comprensione orale a cui si rimanda e quindi insomma è un manuale ricco anche da questo punto di vista. Poi c'è la risorsa culturale in allegato che permette di approfondire l'aspetto del patrimonio, della cultura italiana e una lunga serie di risorse digitali. Nella pagina Giro d'Italia, che appunto vi dicevo una risorsa culturale, ci sono delle schede di presentazione di diverse regioni italiane che permettono quindi anche di fare un lavoro più specifico sulle regioni con le varie particolarità e il patrimonio. E anche in questo inserto, questa risorsa culturale aggiuntiva, vengono poi aggiunte delle proposte di riflessione e di approfondimento. Questo per completare il quadro. Come dicevo poi c'è tutta una lunga serie di risorse digitali che saranno scaricabili direttamente dal sito di Casa delle Lingue e avete qui qualche esempio, testi mappati, itinerari didattici, delle schede che potete proiettare a lezione, dei glossari, audio, video, insomma troverete una lunga, una vasta gamma di attività accessorie che completano il tutto. Allora, finisco questa presentazione perché ho proprio un minuto ancora per concludere sulla mia esperienza personale, visto che mi è stata data questa bella opportunità di prendere la parola e di presentare il manuale, vi spiego anche un po' come sono arrivato poi nelle unità 4 e 6 che sono state quelle di mia competenza a costruire un po' il materiale linguistico e didattico. Nell'unità 4, la prima di cui mi sono occupato, si parla, uno degli obiettivi era fare osservare l'espressione del gradimento, quindi mi piace, non mi piace, non sopporto, adoro, amo, eccetera. Sono andato su un blog, su un sito come Quora, dove ci sono dei forum e delle reazioni autentiche degli utenti e ho selezionato una serie di risposte dove si potessero osservare effettivamente le espressioni del gradimento e ho estratto il testo autentico. Poi a partire dal testo autentico, per introdurlo, abbiamo concepito delle attività rompighiaccio in cui prima di leggere si chiede allo studente di dire qual è il proprio genere cinematografico preferito, perché questo forum, avrete avuto il tempo di leggerlo, ha come tematica i vostri gusti cinematografici. Quindi prima di fare l'attività si estrae il lessico, si presenta ogni genere che lo studente potrebbe conoscere o non conoscere e poi si ritorna all'attività di lettura dove abbiamo facilitato l'osservazione degli item. Vedete che ci sono in giallo le diverse espressioni del gradimento e anche in verde la possibilità di risposta e poi si chiede poi di categorizzare. Quindi un'attività di categorizzazione, attività C, che viene fatta successivamente sulla base dell'osservazione guidata, lo studente è invitato a separare quello che è positivo da quello che è negativo e poi ancora una volta si arriva solo dopo questa osservazione in contesto a individuare la regola e a costruirla progressivamente con la regola, scusatemi, che viene poi attivata nella tavola sinottica finale della parte di grammatica. Con questo concludo, vi ho parlato un po' di tutto, spero di non avervi massacrato con la mia lunga presentazione e che sia stata interessante per voi, che vi abbia dato soprattutto voglia di prendere in mano questo manuale, di stogliarlo e di usarlo presto a lezione e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Ok, allora, beh, intanto grazie, siamo noi che ringraziamo Simone per la sua presentazione e speriamo che vi sia sembrata completa, convincente soprattutto. Allora, qui intanto avete sia la mail di Simone, sia i nostri contatti, insomma quelli che vediamo sempre. E allora, in questo piccolo spazietto che ci rimane, vediamo alcune delle domande che ci avete inviato durante il webinar. Allora, allora, dunque, sezione dedicata alla grammatica. Allora, qualcuno chiede esattamente come si lavora nelle attività di induzione alla regola? Simone, potresti illustrarla nel dettaglio? Non so se possiamo magari tornare indietro. Abbiamo una, l'induzione è fatta come presentavo prima, è lo stesso procedimento del verbo fare colazione, di quella perifrasi. Prima mostravo quanto è graduale il lavoro sul lessico e vale lo stesso per l'osservazione grammaticale. Quindi il la grammatica si osserva nel contesto reale e poi con questa attività di categorizzazione si poi arriva, si cerca di invitare lo studente a dedurre la, a indurre, si induce lo studente a dedurre la regola. Adesso sono un po' lento nell'andare in, vedo che c'è un po' un decadage tra... Sì, poi ti aiuto a recuperare qui o più in questa è la parte finale con le tavole, le tavole sinostiche, però per esempio il per quanto riguarda l'interfisso ISC che dicevamo prima, viene osservato in uso e c'è già qualche piccolo schemino che cerca di attirare l'attenzione durante l'unità e poi rimando alla pagina di grammatica porta alla spiegazione. Quindi il... semplificando molto il processo è sempre lo stesso che per il lessico, quindi si arriva gradualmente alla fine a costruire, a costruire la regola e poi naturalmente questo approccio cambia con l'evolvere delle delle unità, nel senso che si fa in un certo modo per l'unità 1 in un modo più approfondito nell'unità 8, quindi man mano che lo studente prende con fiducia nelle sue capacità anche la sua dimestichezza migliora. Io ripetevo mi sono occupato in particolare delle unità 4 e 6, quindi per quanto riguarda l'unità 5 bisognerebbe... sarebbe interessante sentire l'opinione del... di chi ha contribuito più da vicino a questa unità. Ok. Dunque, continuiamo. Questa è una domanda molto pratica proprio. Come organizzeresti un corso basato su lezioni di un'ora e mezza usando questo manuale? Domanda ampissima ovviamente. Vediamo se puoi dare qualche suggerimento di massima. Insomma, cosa faresti tu? Dipende molto dal gruppo classe, dalla reattività, dalla lingua anche degli studenti, perché il manuale utilizzato in un paese magari come la Francia o la Spagna non avrà la stessa rapidità e la stessa percezione, la stessa ricezione del didai utilizzato in un paese magari dove non si parla una lingua latina. Direi che è un po' a discrezione dell'insegnante. Io personalmente in un'ora e mezza sono riuscito a fare le due pagine in maniera approfondita, forse tre, quindi direi che un'unità a seconda del ritmo di ogni insegnante potrebbe essere utilizzata su quattro, cinque lezioni. Ecco. Allora, altra domanda macro, macro macro. Quali sono secondo te le novità principali rispetto ai manuali già in circolazione o quelle più interessanti secondo te per la tua esperienza? Per la mia esperienza è il lavoro graduale sul lessico, nel senso che c'è veramente un'attenzione a ripresentare molto molto gradualmente il lessico in modo che lo studente lo osservi e continui a osservarlo. C'è come se si facesse attenzione a questa linea della memorizzazione, cioè allo sforzo di memorizzazione che viene sempre sostenuto, quindi direi che la gradualità e poi anche la presenza di elementi ludici costanti. Cioè l'attività ludica come un'attività che si fa una tantum solo perché una determinata tematica invita a fare del gioco, ma la volontà di sistematizzare il gioco e di inserirlo in ogni unità per fare in modo che ci sia questa cooperazione tra gruppi. Quindi far veramente far leva su questo apprendimento attraverso la cooperazione e l'uso attivo della lingua giocando. Ok, allora altre domande che ci sono arrivate a queste provo a rispondere io con qualche elemento. Allora, intanto presentazione molto interessante, dice Veronica. Il testo si presta anche per studenti della secondaria e di secondo grado? Allora, il manuale, adesso insomma Simone per esempio vi ha parlato della sua esperienza in ambito con un pubblico adulto, però Dai si rivolge sia a un pubblico adulto sia ad un pubblico giovane. Ok, quindi può essere adattato ad entrambi anche appunto ad un settore scolastico, non necessariamente adulto, non necessariamente universitario. Ecco, questa è una cosa che ha in comune abbastanza ad esempio con il dente mentre rispetto ad al dente ci sono varie differenze. Io insomma provo a dirvele così nei punti salienti, perché qualcuno ci chiedeva anche rispetto al dente quali erano. Allora intanto, l'estensione delle unità didattiche. Allora, in al dente erano 16 pagine e invece in Dai saranno 14, quindi appunto unità didattiche un pochino più compattate. Gli esercizi anche sono un punto molto importante, perché in al dente c'erano quattro pagine di esercizi per ogni unità didattica, se non erro, invece in Dai saranno 6, quindi abbiamo cercato di rendere ancora più ricca la parte di esercizi associata ad ogni unità. Poi ovviamente ci sono delle strutture che riguardano anche le unità didattiche, insomma, al modo in cui sono progettate, questo l'avete visto durante la presentazione di Simone. Naturalmente le attività ludiche sono una grandissima differenza, perché in effetti in al dente non c'erano attività specificatamente ludiche, invece in Dai sono presenti e sono presenti anche in modo costante. Ok, e poi per quanto riguarda invece gli input autentici sono ancora più presenti in Dai, abbiamo cercato, ce n'erano già in al dente, ma abbiamo cercato di inserirne ancora di più. E poi ovviamente c'è il discorso relativo ai video, adesso noi l'abbiamo visto un po' al salto, però sappiate che in Dai ci sarà un video associato ad ogni unità. Quindi ecco, sono ancora più video rispetto a quelli che c'erano in al dente. E per quanto riguarda le differenze fondamentali, sono queste, non so se i colleghi che sono connessi qui di Casa delle Lingue, anche loro nell'ombra, hanno qualcos'altro da aggiungere, ma più o meno ecco a spanna è quello che mi è venuto in mente. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa e nel momento non vedo reazioni. Ecco, una cosa magari diversa a livello proprio di materiali, ecco la guida pedagogica, ecco che sarà disponibile quest'estate già per il livello A1, sarà in formato di edizione con note, cioè sarà l'edizione del libro dello studente però con note, quindi non sarà un tipo di materiale a parte, come era invece il caso di al dente. e poi insomma i contenuti digitali Simone vi ha dato una scorsa abbastanza rapida di tutto quello che ci sarà dentro, saranno di più di al dente, mi sembra così, secondo una mia ottica macro. E poi basta, ecco, mi sembra abbastanza, no? Non so se cosa ne pensate voi, però io penso che sia abbastanza. Vediamo se ci sono delle altre domande. Allora, questo manuale è pensato per svolgerlo in un periodo scolastico, per esempio in Argentina da aprile a novembre? Simone, tu cosa ne dici? Sì, io penso che si possa applicare a qualsiasi momento dell'anno, non ci sono riferimenti temporali particolari, potete usarlo quando volete. Ok, allora, questo si è già stato detto, però ripetiamo perché è una cosa importante, sarà disponibile sia in versione cartacea normale, sia in versione digitale, questo è il nostro manuale, quindi avrete, e tra l'altro avrete, versione cartacea, versione digitale, solo digitale, e la versione premium che abbina le due versioni, cartacea e digitale assieme, quindi come per al dente, questo l'abbiamo mantenuto. Allora, quando sarà pubblicato, allora le date Simone ve le ha già date, ma ve le ripeto. Allora, per il libro dell'alunno del livello A1, si parla di, auspicabilmente, inizio maggio. Contate al più tardi, metà maggio, ecco, comunque maggio 2003, 2023 intendo, ok? Invece l'edizione per il docente, quindi l'edizione libro barra guida pedagogica, sarà disponibile ad agosto, sempre del 2023. Poi, per i volumi, invece, A2 e A3 parliamo dell'anno prossimo. Sì, A2, A3, A2 e B1 parliamo della primavera del 2024. E il volume 4, invece che B2, ci sarà nel 2025. Ecco, anche questo l'abbiamo visto. Ok, sì, ovviamente, ecco, a partire da maggio, insomma, potete già contattarci ad aprile, se volete farlo. Per avere copie omaggio, ecco, per vedere delle copie saggio, potete scriverci. Allora, lì nella slide potete vedere il nostro, la nostra mail, quindi contattateci e faremo il possibile. Ecco. Insomma, più o meno, ecco, mi sembra che abbiamo visto tutto, ne avete mandate parecchie di domande. No, non so. Simone, vuoi aggiungere qualche ultima considerazione o cosa dici? O possiamo chiuderla qui? Penso di aver detto tutto. Forse qualcuno non reagisce più perché li abbiamo stesi. Siamo saturati. Può darsi. Può darsi. È stato un piacere. Non esitate a scrivermi se avete delle domande, a scrivere a Maria Vittoria e siamo a vostra disposizione. Ok. Ok. Allora, ripeto, il webinar che si sta concludendo è stato registrato, quindi tra qualche giorno, ripeto, tra qualche giorno, non questa sera, non tra cinque minuti, riceverete la mail con il certificato di iscrizione al webinar, il link al questionario di soddisfazione che vi chiediamo di compilare e avrete anche appunto il link al video del webinar che potete vedere in replay e alla presentazione di slide che ha condiviso oggi Simone con noi. E poi, ecco, insomma, per ogni necessità contattateci, lì avete i contatti per poterlo fare. Bene, allora, a questo punto, grazie di nuovo a Simone. Grazie a voi e a tutti i colleghi e buon lavoro. E grazie a voi e dai, ci sentiamo, ci sentiamo presto e ci rivediamo presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.